Lamberto Guerrero, presidente dell'Associazione Cuochi di Torino, 300 anni di impegno e di attività ma non li dimostrate. Cosa devo dire? Detta da lei va bene, ma me lo dicono tutti, in questo periodo è incredibile questa battuta. Sì, io sono orgoglioso di rappresentare la più vecchia associazione cuochi in Italia. Nasciamo con il benestare di San Pasquale Bailon, noi festeggeremo lui, prenderemo il santo, lo porteremo in piazza Vittorio in questi giorni, avremo su eccellenza l'arcivescovo emerito che verrà a salutare i cuochi e fare la benedizione per una grande torta che faremo la domenica. Faremo una grande festa perché è giusto, stiamo lavorando moltissimo, ma è una festa. Tutto per beneficenza e adesso verrà il vicepresidente di Acli e spiegherà perché i cuochi quest'anno faranno questo per un grande ente nazionale che tutti si ha bisogno ma c'è qualcuno che sta peggio di noi e quindi siamo orgogliosi di questo.